Oggi voglio farvi vedere la situazione delle nostre fragole in campo. Siamo al 20 di aprile e come vedete le fragole sono in gran forma, sono fiorite, la fragola si sta formando e saranno pronte circa per fine mese, fine aprile, primi di maggio. Quindi ecco le fragole nella nostra zona, qui in pianura padana, coltivate all'aperto, sono pronte in questo periodo qua, a maggio. Per raverle prima bisogna coltivarle o sotto tunnel, che permette di anticipare di qualche settimana la produzione, oppure avere le serre proprio riscaldate con riscaldamento artificiale. oppure prenderle da altre zone più calde del sud Italia. Questo per farvi capire appunto la stagionalità delle fragole, che è da noi tutta maggio, la raccolta viene effettuata dal primo di maggio solitamente fino alla fine del mese. Vi salutiamo facendovi vedere anche due aiuole con il suo vescio. Sopra l'aiuola abbiamo seminato questo suo vescio di veccia e segale, che arricchirà il terreno pronto per ospitare poi i prossimi trapianti. Buona giornata! Buona giornata! Buona giornata! Buona giornata! Buona giornata! Grazie a tutti.